Il sindaco di Fevara, Rosario Manganella, in procura a Palermo per essere sentito come persona informata sui fatti riguardanti le assunzioni del personale di Girgenti Acque. Davanti al procuratore aggiunto, Maurizio Scalia, e al PM, Geri Ferrara, come persone informate sui fatti, anche il deputato nazionale del PD, Maria Iacono, e il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. Nuova tornata di interrogatori di esponenti politici siciliani, quindi, dopo quelle fatte nei giorni scorsi all'On. Angelo Capodicasa, all'On. Giovanni Panepinto, sindaco di Bivona, e all'On. Vincenzo Giambrone, sindaco di Cammarata. L'inchiesta verte sulla gestione della società d'ambito con particolare riferimento alle assunzioni del personale e sulle modalità di scelta delle persone da assumere. Non solo assumificio, ma anche di società, gare d'appalto e di ingerenza mafiosa. Più volte il pentito di mafia Maurizio Digati si sarebbe soffermato sulle vicende di Girgenti Acque, sulle modalità di un preteso condizionamento mafioso e su numerosi aspetti legati alla gestione della società.